Manco a farla apposta, l'ultimo report, uno degli ultimi report che ci sono stati, ha parlato dell'utilizzo degli immobili della Croce Rossa, o meglio del non utilizzo, dell'utilizzo poco corretto fatto da parte della Croce Rossa italiana, nazionale, dei propri immobili. Questa è dimostrazione che gli immobili, la Croce Rossa ce li ha, potrebbe anche utilizzare delle proprie risorse per poterlo fare come fanno moltissime associazioni. Noi, logicamente, visto il ruolo importantissimo che svolge la Croce Rossa a Salaconsilina, soprattutto da un punto di vista sanitario, abbiamo ritenuto di darle una collocazione e di dargli dei finanziamenti. È logico che se bastassero i 7.000 euro che noi mettiamo nel capitolo di bilancio saremmo contentissimi, ma siccome siamo convinti che i 7.000 euro non bastano, abbiamo presentato nell'ambito dei vari accessi a finanziamenti a livello regionale la richiesta di modificare la struttura, di renderla adeguarla, addirittura si parla di una totale demolizione di una nuova costruzione proprio per creare un polo sanitario in quell'ambito. Le risorse quindi devono arrivare, al momento in cui noi arriveranno realizzeremo questi immobili. Attualmente non abbiamo altre strutture da poter mettere a disposizione della Croce Rossa e quindi c'è di cercare di adeguare, di rendere quanto più possibile quella struttura idonea. Sicuramente, come ho detto prima, i 7.000 euro non bastano perché i 7.000 euro non bastano soltanto per il riscaldamento, per il telefono, per l'acqua che sono a carico nostro e che noi praticamente meniamo. L'eventuale residuo poi lo mettiamo a disposizione della Croce Rossa annualmente con eventuali contributi. Quindi questo in questo momento è lo sforzo che noi possiamo fare pur riconoscendo un altissimo valore alla Croce Rossa per il ruolo che svolge. Però più di questo in questo momento non siamo in condizione di fare.